C'è bianca? Carina. Da dove arriva? Da Genova. Quindi ne valsa la pena arrivare fin qui? Sì, dai. Rispetto alle altre manifestazioni, questa è un po' differente? Sono tutte differenti. Cosa l'ha attirata? Qualche artista di strada, qualche stand in particolare? Gli serpenti. Cosa ne pensa? Che mi fanno paura. Questa manifestazione è stata fatta soprattutto per i bambini, lei ha portato i suoi figli? Sì. Si stanno divertendo? Sì, si stanno divertendo, dai. Lei cosa ne pensa di questa manifestazione? Anch'io penso che sia carina. Certo, pensavo qualcosa di più, devo dire la verità. Anche lei è arrivata a Genova? No, sono proprio del posto, ecco perché pensavo... Ma è la prima volta che organizzano la Notte Bianca? L'anno scorso anche c'è stato, due anni fa, due anni fa. Qualche differenza rispetto a quest'anno? Ma forse qualcosa c'era, vero? C'era qualcosa rispetto a due anni fa? C'era qualche gonfiabile, c'era qualche gonfiabile. Quest'anno invece c'è stata, diciamo, hanno proibito i gonfiabili. Ci fossero stati gonfiabili, ripeto, è diverso, però comunque accontentiamoci. Pensa di tornare l'anno prossimo? Ma per forza, perché io abito qua, quindi... Grazie.